Dex 5 qui a Nova Gorizza e siamo al final day, anzi siamo al tavolo finale, infatti qui alle mie spalle ci sono i 10 giocatori che si sono appena seduti per giocarsi questo tavolo finale e dei 10 gli 8 che parteciperanno al tavolo televisivo, allora andiamo a conoscere i protagonisti di questo final table del Dex 5, vediamo le loro impressioni e come giocheranno questa fase del torneo Vincenzo De Felice al tavolo finale, Vincenzo quante fischiai? Circa un milione e mezzo Bene, sei pronto per il tavolo televisivo? Spero di sì, spero se me lo consente il gioco, le fischiai e gli avversari soprattutto, perché sono tutti ben agguerriti, tutti super giù con il mio stack, quindi è un po' difficile Antonio Quarta al tavolo finale, Antonio quante fischiai abbiamo? Circa un milione e due Circa un milione e due, sta andando bene questo torneo? Molto duro, sono rimasto aggrappato veramente con le unghie fino alla fine, ma ero il meglio di me stesso In bocca al lupo Vendero cala la bellaccia Siamo con Lorenzo Acampora al tavolo finale, Lorenzo quante fischiai? Un milione e mezzo Bene, come sta andando il torneo? Bene Soddisfatto intanto del tavolo finale? Già soddisfatto sì Ti aspettiamo al tavolo televisivo? Speriamo Riccardo Sarti, Atris, quante fischiai abbiamo? Un milione e tre, cinquanta, un po' più di venti bui Bene, bene, ti aspettiamo al tavolo televisivo, mi raccomando Il piccolo Atris non muore mai, non muore mai il piccolo E siamo con Walter Cohen qui al tavolo finale Walter, quante fischiai? Non lo so, non è che più contate, avrò su un milione e otto Un e otto, sei pronto per il tavolo televisivo? Sì, sempre pronto Concentrato? Sempre concentrato In bocca all'uvo? Non so se hai visto, ho appena affondato una Monster Hand Jack e Jack Non è flop E siamo con Andrea Saftic, a lungo chip leader del torneo Siamo al tavolo finale Andrea, quante fischiai? Due milioni e tre Siamo messi bene ancora? Sì, abbastanza Ho perso un colpa a 600 mila Va bene, in bocca al lupo per il torneo E ti aspettiamo al tavolo televisivo Speriamo, crepi Fabio Lubinetti al tavolo finale E' fresco vincitore del Dex dei record Sei ancora ad un tavolo finale Non televisivo Per intanto Ma a due posti dal tavolo televisivo Quante fischiai? Abbiamo quasi tre milioni Appena foldato a suo cappa Proviamo Proveremo a arrivare di nuovo al tavolo finale E a essere protagonisti come l'ultima volta Giovanni Buonapitacola Al tavolo finale Quante fischia abbiamo? Circa 800 mila Siamo corti Siamo corti ma ci siamo ancora Non ci crediamo Ci crediamo Ne mancano due al tavolo televisivo In bocca al lupo Crepi il lupo Siamo al tavolo finale Con Claudio Cannava Claudio, quante fischia abbiamo? Siamo sui due milioni e otto più o meno Bene, messo bene quindi Sì, diciamo che una serie di colpi Fortunati Mi hanno portato abbastanza avanti nel chip count Sono contento comunque di essere al tavolo con dei bravissimi giocatori che stimo tantissimo Tutti quanti Siamo felici Siamo solamente a due piccoli passi dal tavolo televisivo In bocca al lupo Incrociamo le dita E siamo con Andrea Klasovic Tavolo finale Andrea, quante fischiai? Uno milione e mezzo Un milione e mezzo Hai preso un buon colpo adesso abbiamo visto Un buon colpo Ho fortunato con due otto Oto contro Asso Contro Passo Asso Siamo a solamente due passi dal tavolo televisivo In bocca al lupo Sì, mi piace Mi piace questo Per giocare la tavola Come si dice, filmata, no? Sì Sì, mi piace questo Mi piace questo Possibile per guardare in Serbia Bene, buona fortuna Ciao Ciao